Buongiorno, siamo con Mattia Pirulli, segretario confederale CISL e non careggente della CISL Toscana. Mattia, le impressioni sulla giornata di oggi? Sicuramente è stata una giornata di festa, abbiamo salutato l'amico Franco Frattini e l'abbiamo ringraziato per il bel lavoro che ha svolto in questi anni in FIT, sia per il gruppo dirigente ma anche per tutti gli iscritti che ha rappresentato bene in questi anni. E' un in bocca al lupo a Antonino e a tutta la sua squadra perché credo il lavoro da fare è tanto, abbiamo come obiettivo rafforzare le tutele di chi rappresentiamo quotidianamente su un territorio importante come quello della Toscana. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti loro. Grazie Mattia.